Il nostro bondatore Niciren, dai suoni, ci insegno nel suo scritto, o Buon Gio, Se la compassione di Niciren è veramente grande e ogni comprensiva, Ma il mio cuore vecchio dovrebbe diffondersi per più di diecimila anni, Questo possiede il potere benefico di aprire gli occhi ciechi di tutti gli esseri viventi, In tutta la nazione del Giappone sarà anche in grado di bloccare il sentiero verso l'inferno Della sofferenza incessante, i suoi meriti superano quelli di Denghio e di Entai, Ed è di gran lunga superiore a quelli di Nagarjuna e Mahakasyapa, I meriti provenienti dal coltivare la fede e la pratica buddista Nella terra della perfetta beatitudine, per cento anni non possono far agonarsi A quelli ottenuti da un solo giorno di pratica in questo mondo impuro, La propagazione del buddismo durante i due giorni di sciopo e sovo, Non si può paragonare minimamente alla propagazione durante l'era dell'ultimo giorno del Dharma, Ma questo non è in alcun modo a causa della saggezza di Nicire, Ma semplicemente perché il tempo lo rende tale, Durante la primavera i fiori sbocciano, in autunno i frutti maturano, L'estate è calda e l'inverno è freddo, sono le stagioni a fare questo, L'etate è calda e l'inverno è freddo, sono le stagioni a fare questo,